La Chiesa oggi ci invita a far memoria della Beata Vergine Maria del Rosario. Già anticamente gli eremiti orientali usavano collane di pietruzze per tenere il conto delle preghiere che dicevano. Nell'Alto Medioevo i monaci usavano delle cose simili per recitare i 150 salmi della Bibbia. I Domenicani saranno poi i più grandi promotori della preghiera alla Vergine del Rosario sulla scia di una tradizione dove i fedeli erano invitati ad offrire ghirlande di fiori, spesso 150 rose, alla Vergine Maria. Il fatto sta che la memoria di oggi è un invito a domandarci se il Rosario fa parte della nostra preghiera. So già che alcuni di voi storceranno il naso. Perché dire 150 Ave Maria invece di recitarne una bene senza distrarsi e con calma? Perché la preghiera è fatta di passi, di piccoli passi. Perché pregare il Rosario è farci una passeggiata di 150 passi con Dio e con Maria. E dedicare del tempo per stare con lei e con Dio. E affidare, tramite Maria, ad ogni decina la nostra vita e tutte le intenzioni che portiamo nel cuore. Le persone, il mondo intero, le vicende. Sarebbe come dire a qualcuno che amiamo, perché devo stare con te 150 minuti? È meglio stare insieme un minuto, no? E poi via. Guardando alla prima lettura, tratta dagli Atti degli Apostoli, vediamo che dopo l'assunzione di Gesù al cielo, Maria è rimasta con gli Apostoli. E leggiamo. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo, Simone e Lozelota e Giuda, figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Gesù è asceso al cielo, a volte può sembrarci lontano, distante, anche se non è così. Il fatto che lui ci abbia lasciato Maria come nostra madre ci aiuta a sentirci un po' meno soli. Maria è quella ragazza che ha portato nel suo grembo per nove mesi il figlio di Dio, che gli ha permesso di farsi uomo e ancora oggi è lei che ci aiuta a percepirlo presente, vicino, a farci intuire che anche noi siamo abitati da Dio, che anche noi portiamo Dio in grembo. Per questa ragione è bene pregarla quotidianamente, con perseveranza, come pregavano con perseveranza gli apostoli, affidandole le nostre vicende personali e quelle degli altri e del mondo intero. Spesso ci lamentiamo di ciò che non va in noi, negli altri, nel mondo, ma perché non affidare tutto questo nella preghiera, invece che spendere parole per lamentarci. Oggi non posso approfondire di più come funziona la preghiera del rosario, lo farò in altre occasioni. Nel frattempo, se non siete abituati a dire il rosario, se non lo sapete dire, vi invito, che avesse qualche curiosità e desiderio di iniziare, di chiedere a qualcuno, che sapete che è abituato a recitare il rosario, oppure potete andare su qualche sito affidabile su internet per comprendere il funzionamento di questa forma di preghiera molto bella, da recitare non di corsa, siamo già di corsa per tante cose. Il rosario va detto con calma, non è la gara a chi finisce prima. Va detto con calma, rilassati, senza l'ansia di dire tutto bene, senza preoccuparci se ogni tanto ci distraiamo o ci pare di aver saltato una parte. Ciò che conta è stare una ventina di minuti con Maria e consegnare la nostra vita e quella del mondo nel quale viviamo. Buona giornata.